La chiusura del cerchio che non faremo oggi però è il full backspin, è il full frontspin, quindi si fa tutto un movimento completo, sempre a carico del coro, un po' come l'hallo per chi fa catering. Adesso proviamo un esercizio di forza pura che si chiama pulling push up, questo è tosto, lo dico subito però lo proviamo. Andate giù, mettetevi un attimo chi ha la clava al pavimento, dove avete la testa la mano è cronata, quindi appoggio del palmo della mano, dove avete il pomello la mano è supinata, quindi con il palmo della mano verso l'alto, quindi dove c'è il pomello il palmo della mano è verso di voi, dall'altra parte invece il palmo della mano è appoggiato sulla testa. Mettetevi in una posizione simile a un push up, vi consiglio di allargare le gambe perché ce ne sarà necessità, la mano supinata, quindi palmo avanti, palmo verso l'alto, tiratela su un po'. Già questo, se poi vi dico che c'è da fare questo, provate a portare lo sterno a contatto con la manica.